Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Parliamo sempre di LVDT, quindi trasformatore differenziale, quindi trasduttori che utilizzano questa tecnologia. In questo caso il condizionatore può fornire in uscita una tensione nel range più o meno 5 volt. È analogo all'esercizio visto in precedenza e a questo caso abbiamo appunto, così faccio vedere il discorso dell'uscita in corrente o dell'uscita in tensione. Sappiamo che i vari trasduttori si trovano sui datasheet sia con un'uscita che con l'altra. Il trasduttore di posizione ha trasformatore differenziale e il campo di misura che va da più a meno 100 mm. Se quest'ultimo viene utilizzato con un'escursione ridotta, quindi da meno 60 più 80 mm, quale sarà l'intervallo di valori di tensione corrispondente. Quindi questo è, diciamo, uno dei primi esercizi semplici per capire appunto la corrispondenza che c'è tra una e l'altra, semplicemente da quella che è una caratteristica lineare o comunque linearizzata del comportamento tra quello che è la grandezza in ingresso e quella che è poi la grandezza in uscito. In questo caso la grandezza in ingresso è l'escursione della mia parte mobile, mentre il valore di uscita, mentre la grandezza di uscita sarà la mia tensione. Allora andiamo a vedere lo svolgimento. Disegno sempre quella che è molto grossolanamente una ipotetica caratteristica, quindi il mio grafico fatto proprio un po' a occhio, ma tanto rende l'idea, dove abbiamo la lunghezza in millimetri sulle ascisse, mentre abbiamo in questo caso la tensione in volt, vabbè questa evito, tanto è sempre risparmio una v dell'uscita. Quindi abbiamo, però questa volta qua, questa volta qua la facciamo così che è più corretta in effetti, adesso sono abituata a farle sempre in quel modo lì, ma in effetti qua abbiamo entrambe che tagliono a metà e quindi è più corretta a farla così. Ok, quindi qui abbiamo sempre l millimetri e volt qua, ok, quindi abbiamo range da meno 5 a più 5, quindi facciamo semplicemente una cosa più meno così, che occhio ci sta, e poi invece facciamo il più 100 e meno 100, anche qui diamo un po' a naso. Ok, ora qua facciamo più 100, magari facciamo un po' più piccolo, lo riduco così si riesce a vedere un po' di più. Ok, quindi e qua abbiamo più 5 e meno 5. Bene, ora se avessi la tutta la mia curva avrei, sì, beh, sono stata un po', passa per lo zero, eh, sono parte il mio, la mia cosa a mano, però insomma direi che sono stata abbastanza precisa, così. Quindi in corrispondenza dei meno 5 volte avrei meno 100 e in corrispondenza dei più 5 volte, perdon, mi correggo, in corrispondenza delle escursioni di meno 100 millimetri avrei meno 5 volte e invece con l'escursione di più 100 millimetri avrai i più 5 volte, l'ingresso e l'uscita sono quello, quindi l'ingresso sulle ascesse e l'uscita sulle ordinate. E però vorrei che questo qui passasse per lo zero un po' più, un po' meglio, se no, non è che si veda, vabbè. Ok, tanto lo dobbiamo tagliare, quindi. Andiamo a vedere invece che cosa succede quando io, l'escursione va a meno 60, quindi se io faccio conto di avere il 50, posso pensare di avere un meno 60 qui, 6, 7, 8, 9, ah sì, più o meno così, quindi qua ho un meno 60, e poi un più 80, quindi un più 80, siamo qui sempre 10, 20, 30, più o meno così, guardate che se riesco più o meno dovrebbe essere una cosa di questo tipo, e qua abbiamo i più 80 bene, quindi vedete che l'intervallo diminuisce e rimane poi in questo range qua, che disegno in rosso, che ripasto in rosso, bello così, così almeno più grasso è e più rimangono le imprecisioni nascoste. Ok, allora andiamo a vedere invece a livello analitico che cosa succede. Allora abbiamo il valore v minima, allora se vado a considerare, consideriamo solo una parte, quindi o metà o metà, per evitare di fare tutta l'escursione doppia, quindi il range dei 10, si può anche fare con range di tutti i 10 volt e l'escursione di 200 mm, perché è la totale. Però andiamo a prendere, a considerare metà per volta, tanto quello che andiamo a considerare è sempre il solito triangolo, quindi avremo un'escursione, se vogliamo farla in questi termini, di 5 volt, per quello che sono i 100 mm. Quindi sarebbe sempre la stessa formula con il valore iniziale della tensione, che comunque è 0 perché passa per l'origine, per questa che in fondo è poi la sensibilità, per il valore che voglio calcolare, quindi meno 60 mm, e quindi in questo caso avrò meno 3 volt, e vedete che più o meno ci siamo. la v massima sarà sempre questa relazione per gli 80 mm, e quindi in questo caso avrò più 4 volt, e qua, sì, salvo un pochino di imprecisione, fatto a mano, però vedete che corrisponde, quindi effettivamente l'escursione della mia tensione sarà tra meno 3 e più 4, nel caso appunto l'escursione invece della parte immobile vada da meno 60 a più 80, anziché da meno 100 a più 100. Bene, spero sia tutto chiaro, fatemelo sapere nei commenti, ci vediamo alla prossima lezione, al prossimo video. Ciao ciao!